Amici di Esco a Correre ben ritrovati, come state? Oggi voglio fare un video un po' particolare, questa è un po' una guida che potrà secondo me servire a tantissimi runners là fuori è uno di quei video che avrei voluto avere io a disposizione quando ero agli inizi con la corsa spero che vi possa essere utile oggi andiamo a parlare di tutti gli allenamenti di corsa per la corsa cercherò di descrivere che tipologie di allenamenti sono, come si fanno, a che ritmi vanno corsi e soprattutto a che cosa servono la cosa più importante da dire è che questa struttura che sto per dare è quella che ho studiato quando l'anno scorso mi sono diplomato come running coach con Uesca quindi io utilizzo una formazione di tipo americana, appunto quella di Uesca che potrebbe essere leggermente diversa da altre scuole però più o meno le basi sono quelle per iniziare dobbiamo sapere che ci sono tre categorie principali per gli allenamenti di corsa la categoria di allenamenti aerobici la categoria degli allenamenti threshold o in soglia e la categoria degli allenamenti cosiddette ripetute o interval in inglese poi ho creato anche una quarta categoria che in realtà non esiste proprio nella letteratura Uesca che è quella del recupero, ovvero quegli allenamenti che sono semplicemente dei recuperi attivi ma poi ne parleremo iniziamo con la categoria aerobica, quella più in alto di questa nostra struttura quali sono gli allenamenti aerobici più importanti? beh sicuramente andiamo a parlare subito del lungo perché voglio cercare di dare questa struttura partendo dagli allenamenti più lunghi ho già fatto un video a riguardo che vi metto in evidenza così potete andarlo a vedere perché lì ho parlato dell'importanza di correre oltre due ore appunto il lungo per me il lungo è tutto quello che supera i 20 km di corsa cosa importante? i ritmi io consiglio sempre di utilizzare il V-Dot Calculator perché altrimenti diventa un pochettino difficile andare a calcolare ogni singolo ritmo fare test e cose del genere diciamo che V-Dot Calculator, vi metto il link sotto in descrizione vi permette facilmente di crearvi i vostri ritmi per ogni tipologia di allenamento quindi cercherò di dirvi esattamente qual è la soglia da utilizzare proprio sul V-Dot Calculator per questa tipologia di allenamento stiamo parlando del lungo quindi questo allenamento fondamentale dove di solito si corre a un ritmo controllato non troppo forte, nel V-Dot Calculator è il ritmo easy dove appunto si corre per tanti chilometri dai 20 km in su a secondo di quello che si sta preparando addirittura il lungo può diventare un lunghissimo per chi prepara le ultramaratone allenamenti da anche 50 km anche se questi sono allenamenti molto particolari da utilizzare con cautela è una corsa dove si mantiene un ritmo stabile si parte se finisce più o meno a quel ritmo e si cerca di lavorare appunto sulla distanza cercando di fare i chilometri e mettendo i cosiddetti chilometri sulle gambe è un allenamento fondamentale per quasi tutte le specialità da 10 km in su secondo me ognuno degli atleti che appunto preparano queste distanze devono utilizzare il lungo all'interno della propria preparazione il secondo allenamento della fascia aerobica è la cosiddetta, non in inglese la chiamiamo base run in Italia è più conosciuta come il classico lento è la corsa di base quella che di solito dovrebbe essere oltre il 50% dei nostri chilometri settimanali se si va a vedere il video calculator per il ritmo si sta parlando di nuovo del ritmo easy esattamente come per il lungo però i chilometri qua sono un po' meno possono essere da 5 in su di solito per me la base run la corsa lenta è sempre tra 5 e massimo 19 km perché poi inizia a diventare un allenamento lungo anche in questo caso è un allenamento che aiuta appunto a migliorare il nostro sistema aerobico sono allenamenti fondamentali sono la cosiddetta base di qualsiasi preparazione per quello in inglese si chiamano base run allenamenti di base è un allenamento fondamentale perché ci permette di migliorare a livello aerobico a livello di resistenza ci permette di trasformarci in runners più evoluti facendo tanti di questi chilometri è importante non correre troppo forte nella base run nel lento bisogna mantenere comunque un ritmo dove il cuore non va a sforzarsi troppo se utilizzate il cardiofrequenzimetro per esempio cercate di non andare mai oltre la soglia 3 che è già un po' troppo elevata meglio nella zona 2 come allenamento è oltre il 50% degli allenamenti complessivi quindi è molto importante utilizzare questa tipologia di allenamento nella propria preparazione andiamo così a parlare degli allenamenti in threshold ovvero in soglia aerobica ovvero questi sono quegli allenamenti dove si corre a un ritmo alto ma non altissimo un ritmo lì lì dove si inizia a produrre troppo acido lattico e quindi andare in debito d'ossigeno nella soglia un pelino sotto di quella quindi è sicuramente un ritmo più lento del ritmo gara però si inizia a sforzare un pochettino questi allenamenti sono fondamentali perché ci aiutano a migliorare la soglia anaerobica quindi a spostare sempre più in là il nostro limite dove il corpo non ce la fa più dove va in debito d'ossigeno facendo questi allenamenti nella maniera corretta appunto si sposta sempre più in là questa linea e quindi diventiamo degli atleti sempre più veloci e resistenti sono allenamenti estremamente importanti non si può essere un buon atleta facendo solo lavori aerobici così come non si può diventare un buon atleta facendo solo lavori in soglia come questi che vi sto per raccontare quali sono questi allenamenti? partiamo dalla tempo run ne abbiamo già parlato in italiano la tempo run spesso viene chiamata come corto veloce allenamenti da 5 a 20 minuti a ritmo sostenuto appunto a ritmo in soglia se utilizzate il V-Dot Calculator il ritmo da tenere si chiama threshold appunto in soglia in questo caso andiamo ad allenare la nostra VO2 Max andiamo a allenare la nostra capacità anaerobica andiamo ad allenare in poche parole la nostra resistenza e velocità allenamenti assolutamente fondamentali ovviamente non c'è solo la tempo run tra l'altro anche qui ci ho fatto un video ve lo metto in evidenza così potete andare a vedere nel dettaglio questa tipologia di allenamento ma ci sono tante altre tipologie di allenamento una su tutti è il cosiddetto time trial in inglese in realtà non c'è una traduzione italiana il time trial non è nient'altro che una simulazione su una distanza specifica di solito si utilizza i 5 km, i 10 km qua in UK e anche in America si utilizza anche la misura dei 10 miglia quindi 16 km dove si corre quasi al massimo quasi come se fosse una gara un pelino sotto il ritmo gara sono degli allenamenti che non vanno fatti troppo spesso non va inserito il time trial tutte le settimane la tempo run invece è uno di quei allenamenti che si può fare tutte le settimane magari una volta alla settimana il time trial richiede un pochettino di più al proprio corpo quindi io lo utilizzo una volta al mese come tipologia di allenamento quindi si prende una distanza secondo l'allenamento della preparazione e si cerca di correre più forte che si può o quasi ripeto a volte si fa leggermente più lento il ritmo gara anche perché comunque è difficile in allenamento riuscire a mantenere il ritmo gara perché manca l'adrenalina manca la competizione eccetera è uno di quegli allenamenti davvero fondamentali sia a livello psicologico perché se stiamo bene e dovrebbe di solito il time trial si fa prevedere un miglioramento ci aiuta a prendere più fiducia con noi stessi ma anche a livello di fisico ci aiuta tantissimo perché è un allenamento anaerobico splendido che anche qua va a migliorare la nostra VO2 max meglio se fatto in pista o comunque su un circuito su strada che si conosce e anche ora meglio se fatto in piano perché ci permette così di poter misurare la nostra frequenza cardiaca in un ambiente controllato un altro allenamento che fa parte degli allenamenti in soglia threshold è sicuramente il progressivo il progressivo è uno dei miei allenamenti preferiti si parte a un ritmo di corsa lenta o base run per poi aumentare come si aumenta dipende ovviamente dalla preparazione a me piace aumentare ogni chilometro magari mi scaldo i primi 3 chilometri e poi inizio la progressione ogni chilometro tolgo qualche secondo dal mio passo e cerco di velocizzare e di solito si finisce a ritmo tempo run o addirittura anche leggermente più forte sono degli allenamenti estremamente importanti ancora per la nostra soglia anaerobica e soprattutto sono degli allenamenti divertenti che ci mettono in condizione di fare comunque uno sforzo fisico importante senza però annoiarsi perché appunto con la progressione bisogna aumentare sempre di più e a livello psicologico questo può aiutare è un allenamento splendido anche per i maratoneti e mezza maratona perché ci insegna a correre la seconda parte di gara più forte della prima perché ovviamente quando si va in progressione si aumenta il ritmo ma si è anche più stanchi perché i chilometri aumentano e quindi questo ci permette appunto di imparare a correre con queste condizioni adesso vi parlo della terza categoria ovvero le ripetute le ripetute hanno diversi scopi aiutano sicuramente anche con la parte di allenamento anaerobico quindi migliorare il nostro VO2 max le nostre capacità complessive ma hanno anche un'importanza sul miglioramento della nostra velocità e della forza quindi sono dei lavori specifici proprio per velocità e forza infatti uno degli allenamenti più importanti nel mondo ripetute o in inglese interval sono le cosiddette ripetute in salita una delle mie preferite le ripetute in salita sono uno degli allenamenti più completi in assoluto perché ci permettono di lavorare parecchio sulla forza muscolare ma anche sulla nostra resistenza e velocità quindi va a coprire un po' tutto per me la ripetuta in salita ideale è all'incirca di 200 metri con una pendenza non esagerata ma neanche troppo semplice dove si corre su in ripetuta quindi forte più o meno il nostro 80% per poi correre piano in discesa per recuperare e quindi ripartire come vengono fatte queste ripetute? di nuovo dipende dalla preparazione da che cosa stiamo preparando esattamente dalle esigenze ci sono tantissime tipologie di ripetute in salita dove si gioca di più con l'elevazione con la difficoltà con la lunghezza delle ripetute si possono scegliere ripetute più lunghe magari con l'elevazione ridotta oppure uno sforzo maggiore di forza con l'elevazione più alta magari ripetuta più esplosiva perché più breve insomma ci sono davvero tantissime tipologie con cui potete giocare ed allenarvi però questa è sicuramente una base il secondo allenamento di questa categoria sono le ripetute corte sono tutte quelle ripetute che solitamente si fanno in pista un po' per evitare di infortunarsi perché su strada comunque sono velocità importanti quindi c'è il rischio di farsi male meglio se riuscito a farle in pista sono tutte quelle distanze tra i 200, i 400 fino agli 800 metri 1000 metri ecco queste sono considerate le ripetute corte che servono per lavorare soprattutto sulla velocità ma non solo per esempio un allenamento che io amo di cui ho parlato spesso anche su questo canale è il test di Yasso ovvero 10 volte per 800 che è un allenamento che viene utilizzato anche per la maratona queste tipologie di ripetute vanno fatte una volta alla settimana non di più perché comunque vanno ad impattare parecchio sulla nostra muscolatura ovviamente io sto parlando per tutte quelle persone che fanno podismo quindi corrono su strada 5, 10 mezza maratona maratona ultramaratona il terzo allenamento in questa categoria sono le ripetute medie le ripetute medie sono un allenamento classico da mezza maratona e maratona stiamo parlando di ripetute da 2000 da 3000 e anche da 5000 perché no? dove si lavora più sulla resistenza alla velocità piuttosto che sulla velocità stessa un allenamento interessante che faccio spesso sono 3 volte per 2000 4 volte per 2000 3 per 3000 2 per 5000 eccetera eccetera con allenamenti che aiutano davvero tanto appunto la resistenza alla velocità per imparare tra virgolette il ritmo e quindi abituare il corpo a correre ad un certo ritmo di solito per le ripetute medie si utilizza un recupero attivo ovvero si corre si corricchia qua tra una ripetuta e l'altra invece nelle ripetute corte un pochettino più specifiche per la velocità si può anche recuperare in maniera passiva anche qua dipende da che cosa state preparando io difficilmente recupero in maniera passiva quasi sempre corricchio tra una ripetuta e l'altra sia che siano corte o che siano lunghe però se state lavorando parecchio sulla velocità per esempio state preparando i 5000 e quindi la ripetuta corta è uno sforzo notevole cercate proprio la prestazione allora è giusto recuperare in maniera passiva una cosa importante da dire è che le ripetute vengono divise ancora in 4 micromondi per tipologia ci sono le ripetute ascendenti discendenti a piramide e infine fartlek queste sono modalità con cui si possono fare le ripetute che molti allenatori utilizzano serve anche per rendere le ripetute un po' meno noiose aiutarci anche a livello psicologico e ovviamente c'è anche una motivazione dietro più organica della qualità di questa tipologia di allenamento le ripetute ascendenti lo dice la parola stessa sono quelle dove si parte con una distanza più breve quindi 1x200 per poi salire 1x400, 1x600, 1x800 e poi magari si chiude con un 1000 questo è un allenamento ascendente con ripetute ascendenti le discendenti è esattamente l'opposto si parte magari con 1x2000 1x1000, 1x800 e si va a scendere anche qui le distanze come farle, i recuperi eccetera dipende tutto dalla preparazione da che cosa state preparando da come state eccetera eccetera però questa è la tipologia poi c'è il sistema piramide quindi ripetute dove si mischia l'ascendente e il discendente quindi si va per esempio a iniziare della ripetuta più corta per aumentare per poi scendere di nuovo quindi 2x468 e poi 642 oppure l'opposto si potrebbe anche partire con la più alta 2000, 1800 e poi fare l'inverso di nuovo questo si chiama ripetute apinamide e poi abbiamo il fartlek che cosa vuol dire fartlek? anche qua ci ho fatto diversi video vuol dire andare a giocare proprio con la velocità questo di solito è un allenamento che non si fa in pista o comunque solitamente si fa su strada dove si fa un certo tipo di riscaldamento quindi magari si corre per 10 minuti e poi si inizia a fare un minuto forte un minuto lento due minuti forte un minuto lento eccetera eccetera per concludere io mi sono inventato una categoria che in realtà non esiste come categorizzazione nella modalità uesca diciamo che è il cosiddetto defaticante di solito defaticante viene comunque inserito nel mondo dei lavori aerobici però per me è qualcosa di diverso perché il defaticante è quella corsa che si fa quando non si vuole fare il riposo passivo ovvero un riposo attivo per esempio quando io mi voglio allenare 7 giorni su 7 il giorno di riposo lo sostituisco andando fuori a correre a un ritmo molto più lento rispetto al mio classico lento quindi se il mio lento è 4.30 esco a correre a 5.10 5.20 5.30 senza problemi cercando di rilassarmi il più possibile questo io a me piace metterlo proprio in una categoria a parte chiamarla appunto defaticante ed è anche questo ovviamente un allenamento che serve però più per recuperare che altro e ci aiuta comunque a mettere chilometri sulle gambe e io ho notato tra l'altro che i defaticanti mi aiutano molto di più a recuperare piuttosto che a non fare nulla quindi a prendermi un giorno totalmente libero però io sono un'atleta molto evoluto ho tanti chilometri sulle mie gambe tanti anni di esperienza non suggerisco assolutamente a tutti di iniziare a fare queste tipologie di allenamenti dove ci si allena tutti i giorni ci si arriva con un certo tipo di maturità e quando si inizia a conoscere il proprio corpo poi c'è anche da dire che ogni corpo reagisce diversamente ecco questa è un po' la struttura di tutte le tipologie di allenamenti a disposizione secondo appunto la struttura di Uesca poi ripeto ci sono tante piccole varietà di allenamenti però alla fine si assomigliano tutti e le categorizzazioni sono quelle di cui vi ho parlato in questo video spero che vi possano essere utili vi voglio anche dire che ci ho scritto un articolo a riguardo su escocorrere.com trovate tutto per iscritto quello che vi ho raccontato in questo video quindi potete andare a vedere e soprattutto cosa più importante ognuna di questa ripetuta ha il proprio ritmo di allenamento utilizzando il VDOT Calculator si trovano appunto tutte le soglie di velocità da mantenere che trovate su escocorrere.com nell'articolo e anche appunto utilizzando il VDOT Calculator perché è molto esplicativo per farvi un esempio le ripetute in inglese si chiamano interval e quindi interval è la soglia da controllare il ritmo per appunto fare le vostre ripetute a seconda della distanza io spero che questo sia stato utile vi possa aiutare a sviluppare meglio i vostri piani di allenamento soprattutto variarli un pochettino perché sto vedendo troppi atleti che magari sono inizio che sono un po' persi che fanno allenamenti troppo simili uno con l'altro e soprattutto tanti atleti che corrono troppo forte i propri lenti invece secondo me è importante quando si corre piano si corre piano e quando bisogna fare lavori specifici si spinge sull'acceleratore i lavori specifici non devono essere troppi io amo fare tanti lenti durante la settimana e magari fare due lavori specifici non di più perché comunque il corpo deve recuperare e correre a ritmo troppo forte i propri lenti non è allenante anzi al contrario rischia di fare peggio però questo è l'argomento di un prossimo video io spero che questo video vi sia stato utile se è stato così per favore mettete un like se non vi siete ancora iscritti al canale per tutti i nuovi arrivati se non conoscete ancora esco a correre siamo anche su podcast da un po' di tempo usciamo tutte le settimane con un podcast siamo ovviamente anche su instagram abbiamo un gruppo su facebook dove la conversazione è sempre aperta vi invito ad iscrivervi esco a correre club e ho detto tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao